Sul colle, sacro alla gloria degli antichi trionfi, Roma che ha immutato il culto delle virtù guerriere e civili, ha conferito la sua cittadinanza onoraria al maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, strenuo combattente della Grande Guerra, pacificatore della Cirenaica, vincitore di Neghelli, di Ogaden e di Arar, organizzatore e stratega della ricostruzione dell'impero, cui il governatore ha consegnato le littere Civitatis e il bastone di maresciallo che il popolo fascista dell'Urbe, della provincia e dei comuni di Subiaco, a file e filettino, hanno offerto al nobilissimo romano condottiero. Grazie a tutti! Grazie a tutti!